Alla mente squilibrata di neuroni quasi zero lotta incontro i simbolisti formalisti dello zar col colbacco e gli spivali discutendo tutti insieme con la scienza applicata crea la letterarietà ma Blackprop sbuffa e sbuffa e dopo un po' con le sue trentun funzioni sette ruoli inventerà ma Blackprop è il formalista che cos'ha al colbacco e gli spivali ma non possono bastare I formalisti alti e fieri con i baffi volti in su di se stessi vanno alteri ma Blackprop non vogliono più lo hanno messo un po' di lato e lo hanno emarginato che formalista sfortunato è il nostro povero Blackprop ma Blackprop non si arrende dopo un po' con il libro sulle fiabe alla riscossa tornerà e Blackprop così proprio non si può non ragiona in questo modo un formalista dello zar la 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 i formalisti sono stanchi non li prendono sul serio e poi gli strutturalisti non li vogliono ascoltar alla mente squilibrata di neuroni quasi zero ecco cadono dal pero i formalisti dello zar ma Blackprop cos'è il furbo che farà con le sue 31 funzioni noto a tutti resterà ma Blackprop cos'è il furbo che farà con le sue 31 funzioni noto a tutti resterà la 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 Grazie a tutti.